Con un 63% di Alpac che dà a questo articolo spessore mano e un 37% di poleamide di cui la gran parte è riciclata, questo filato ottiene certificazione GRS. Ciò che sicuramente lo caratterizza maggiormente è la sua sfumatura che permette di creare capi rigati di grande effetto sulla finezza 3. L'intervento di due colori che si compenetrano l'uno nell'altro mischiando sincromie fuse e accattivanti lo rendono protagonista a sé senza richiedere altro che lavorazioni rasate e volumi ampi e generosi. Con un'ampia cartella che spazia da toni classici a toni maggiormente aggressivi, su cui sono comunque segnalati quattro colori sempre pronti, si candida per essere uno dei filati di punta della prossima stagione. Con un minimo di chilogrammi 30, mischiando toni della cartella dell'articolo Airplane, si possono avere toni personalizzati.